e buongiorno buongiorno a tutti buongiorno 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 bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale io sono angelo di basu 70 dopo aver fatto un bel po di superstrada dove siamo stati a mangiare la prima volta che siamo stati qua oggi 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 andiamo al passo dello spluga finalmente incominciano aprire i passi alpini e finalmente si comincia a fare un po più di salitelle e un po più di tornantini anche se anche se qua ce ne sono veramente tanti stretti e ostici frane 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 da tutte le parti cacchio ce n'era una varenna ma non dovremmo passarci noi credo allora tornante 15 preso stretto ma preso mini anche qua adesso vediamo di prenderlo bello largo in modo da non rompere i cogliocchi video che sarà lunghissimo molto lungo 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 perché siamo partiti in anticipo registrare perché ci sono tante belle curve e quindi va bene allora ritornando a noi passo dello spluga di sul confine tra italia e svizzera svizzera si sale da chiavenna si sale la chiavenna giornata che dovrebbe chiamare solamente brutto tempo infatti diciamo che come potete vedere anche dalle immagini diciamo che fa cagare però non dovrebbe piovere comunque siamo preparati anche a quello e abbiamogli parapioggia gomme molto scolpite scolpitissime le metazelle tu runs next normali non le due le due due non vanno bene e comunque già che ci sono già che ci abbiamo mezz'oretta di tempo prima di arrivare su un tornante numero 19 vi ricordo che gratuitamente senza impegno e senza nessun costo potete iscrivervi al mio canale lasciare un bel like se i miei video vi piacciono se sinceramente spero che vi piacciono e attivare la campanellina se siete dei sadomasochisti e volete essere avvertiti all'uscita del mio prossimo video come ho detto anche negli altri video sto cercando di fare video tutte le settimane portare un video nuovo tutte le settimane portarvi da qualche parte tra una quindicina di giorni 20 giorni ci sarà il primo motoraduno nazionale degli amici del vostrom e spero di riuscire ad andarci spero che non nevichi e non piova perché con la fortuna che tendenzialmente mi ritrovo diciamo che mi piacerebbe allora rispondo a uno molto simpatico che mi ha scritto sotto il video del passo san marco dicendo che andavo su a cannone tutto il resto no non vado a cannone sono un motociclista abbastanza tranquillo in quel video ho esagerato sulle curve però diciamo che ci poteva anche stare ci poteva anche stare ma tendenzialmente non sono uno che corre non mi interessa di correre dietro nessuno e non mi interessa di stare attaccato al culo a nessuno vado su come voglio al massimo vado tranquillo io e me ne sbatto arrivo comunque a me interessa sono uno dei cultori cultori del diciamo amo cultori del amare il viaggio sicuramente più di arrivare per primi alla meta si preferisco il viaggio preferisco vedere dei paesaggi guardare le strade non commento non dico niente su quelli che magari vanno solo per fare le curve non dico niente ognuno è libero di vivere la moto per quello che gli piace per quello che gli interessa me interessa di viaggiare l'ho detto lo ripeto lo ripeto lo ripeterò sempre sì ogni tanto la cazzata magari la posso fare però tendenzialmente tendenzialmente no allora passo dallo spluga come dicevo prima ci siamo stati credo la prima volta 7 8 anni fa 7 8 anni fa siamo venuti ma scusate lo sputo siamo venuti qui la prima volta con la undina sì prima volta con la undina ci dovevamo incontrare a chiavenna con un nostro amico e un nostro conoscente due nostri amici e soltanto che quando siamo arrivati a chiavenna ha cominciato a piovere e che cazzo fai non vai allo spluga no perché no piove cacchio vai e allora siamo siamo tornati indietro però mi è rimasto sempre quella quella cosa che prende un po tutti nel dire quasi arrivato vicino 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 un cacchio perché erano ancora 12 chilometri credo 12 20 chilometri e quindi diciamo che mi giravano i maroni non esserci arrivato della settimana dopo poi ho ripreso la motina e siamo andati a vedere sto bellissimo passo dello spluga allora bello sì c'è la dogana sì bellissimo poi scende svizzera e arrivi a spluga dove si mangia anche abbastanza bene un po caruccio perché trattasi di località svizzera e quindi loro tendenzialmente quando ti vedono arrivare come sto ceceno hanno prezzi un po più alti per noi ci sta sì non dico niente poi ci siamo ritornati qualche anno dopo con la suzukina e siamo andati a tu devi essere un paralitico mentale però va bene siamo tornati ripeto veramente va bene e siamo tornati qualche anno dopo ancora sempre con la suzukina però abbiamo beccato credo due giornate di neve di freddo freddissimo vento gelato non riuscivamo neanche a stare lino non mi sono neanche tolto la giacca per la paura ed era estate adesso incominciano i tornanti quelli stretti no forse no più avanti caratteristica dello spluga passo dello spluga una serie di gallerie contornanti veramente paurosi l'ultima volta credo che ho rischiato di andare in terra diciamo che è paragonabile in certi punti al al prada la strada che porta sullo stelvio salendo dal trentino veramente tornanti veramente stretti però questa volta andiamo su con la calma e la vaserina che prima o poi ci ti appartiamo la farfallina però diciamo che è una strozzata questo va bene scusate non lo faccio più cominciano arrivano i tornanti arrivano i tornanti galleria galleria è questa splughezza galleria tornante dietro non c'è nessuno davanti non c'è nessuno ce ne andiamo su con calma oggi funziona così oggi va così e lasciamo passare se passa su qualcuno in macchina lo lascio passare un po' più largo passiamo in quattordici e vabbè ci sta ci sta si avvede dai che bravo sto anche stretto questa volta c'è il dream drone del motovit che mi sta avvertendo di montagne infinite di curve pericolose la bellezza di avere un bicilindrico metti in seconda e vai ovunque se metti la terza uguale si si gallerietta sterlinga si ci sta stiamo andando molto piano ma perché non me ne frega una massa stessa otto gallerie per fortuna oggi c'è brutto tempo e non c'è in giro una ciascola di nessuno e quindi riusciamo a farcele con calma che quando qua c'è traffico è un suicidio letteralmente un suicidio calderia montare bikeisti ho visto arrivare se non ci fermiamo lì a metà strada e nessuno passa questo si è già fermato lì a questo si è già fermato lì a tornanti tornanti prendo ci vede una sega questo tornante tornanti a casa si pianazzo galleria pianazzo cascata del pianazzo quasi dopo ci faccio un saltino credo la parte più brutta di averla fatta con i tornanti molto molto stretti adesso dovrebbe essere un po meno ci sono ancora quei due lì forse non madesimo l'isola passo dallo spluga si 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 neve freddo neve e freddo madesimo ci sono mai stato a madesimo magari un giorno ci andiamo si voilà si dai che ci siamo quasi dai ah si stavo dicendo prima mi sono dimenticato di andare avanti bravo 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 allora il 16 17 e 18 di giugno se qualcuno di voi avreste avrebbe avesse vorrebbe possedere una suzuki gustrom c'è il motoraduno nazionale primo motoraduno nazionale degli amici del vostro l'ho già detto prima lo ripeto e si svolgerà in quel di parma vediamo se ci sto bravo bacio bravo 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 comincia a piovere no figa no 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 fermabilmente gocciolina di acqua mentre entravo in galleria e si svolgerà il primo motoraduno a Parma Nelle giornate del 17, dovrebbe essere venerdì, ci sarà l'accoglimento delle persone che partecipano ed eventualmente ci si conosce, ci si vede, ci si incontra e tutto il resto. Il giorno 17 invece ci sarà il motogiro, comunque sia vi lascio in descrizione la pagina Facebook del gruppo il cui presidente è Paolo Ubaldi, persona molto gentile, molto affidabile, molto simpatica e quindi diciamo che ci sta nello spiegare eventualmente su Facebook, sul gruppo, o credo anche in privato, se necessita di ulteriori informazioni, di darvi informazioni più specifiche su quello che sarà l'evento del motogiro, sui posti dove eventualmente chi vuole venire, chi ha già la vostrom può andare a dormire o a mangiare, comunque sia lui è l'organizzatore, l'amministratore del gruppo, quindi diciamo che... Alpi! Alpi! Alpi o Alpi? Per qualcosa! Alpi! Teggiate! Alpi! E diciamo che è lui l'organizzatore, è lui l'amministratore del gruppo e quindi magari vi lascerò anche il link qui sotto per contattarlo, se avete la vostra V-Strom, mentre invece nella domenica di giornata, nella giornata di domenica ci sarà la possibilità di provare le due V-Strom nuove, quindi la 1050 D-E e la 850 D-E, le ultime uscite di casa Suzuki, per quello che riguarda la versione Enduro Stradalone, la 1050 D-E e la 850 D-E e la 850 D-E, le nuove. Finalmente non sopporto non dormire, quindi andrò domenica mattina. In quell'occasione farò un paio di video anche su un paio di passi che voglio fare prima di arrivare a Parma, perché sinceramente andare a Parma e non farmi un paio di giri su qualche passo non mi sembra il caso. Stupende, però io devo stare attento alla strada. Galleria, galleria del tuor, tutur, 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 maron tutur. così ci siamo cazzo che freddino pensavo peggio devo essere onesto pensavo molto ma molto peggio neve neve e qua ormai siamo a metà quasi a giugno tra pioggia e neve i passi aspettano aprirli però va bene settimana prossima apriranno gavia e stelvio quindi ottima cosa ci faremo dei bei video anche lì gavia dovrebbero anche averlo asfaltato quindi diciamo che ci potrebbe anche quasi stare mentre invece lo stelvio tappa che di solito uso di passaggio perché voglio andare a fare ancora quest'anno il passo del rombo e se riesco il lago di resia due tappe che di solito faccio tutti gli anni anche se quest'anno avevo detto che volevo fare qualche passo da questa parte quindi nulla di più semplice che incomincieremo magari a fare anche il passo Maloia e Iulier e così via salendo che sinceramente trovo degli ottimi passi ed è un po' che non li faccio sono in svizzera sì ma la mia moto è quasi completamente originale quindi ci sta ci sta la diga del lago dello Spluga col freschino del lago dello Spluga sti caspiti beddu beddu la diga mcx mcm xxxx allora m1000 10 20 30 31 1500 mcm mcm xxxx sono da casa poi ve lo segno qua che così almeno lo sapete anche voi rifugio stuetta qui fanno una torta che è spettacolare chiuso ma va a favore ma va a favore fanno una torta chiuso un altro rifugio no vendesi residenz poblati no mcm xxx1 xxxx 1 e 31 m1000 no oh e diciamo che di acqua non ce n'è tanta neanche qua sì 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 nevii freddo molto freddo molta nevii bella madonna che macchinaccio dietro una ventoli no ma potrebbe essere no pare così una porsche sì mi sa di una porsche una porche c'ho dietro una porche c'ho dietro una porche c'ho dietro una porche si sembra una macchina ma però mi sa che è colorata c'è sui vari colori e quindi sembra una macchina diversa guarda dove questo mi sa di uno con la moto storica se 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 frescolino 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 grande che spettacola questa di solito è coperta tutta dall'acqua della diga quindi non si vede una mazza però credo che siano dieci anni che è così il lago che non lo riempiono probabilmente lo lasceranno sempre così poi mi devo chiedere il perché ho tolto i sottopantaloni eh oggi caldo figa farà un caldo boia 17 gradi sta minchia porca paletta neve 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 freddo freddo neve e freddo e freddo e neve freddo moscerino una mosca si è suicidata sul mio casco oh che pare oh montespluga comune di madesimo yeah sì sì svezzaro svezzaro sì svezzaro sì molto svezzaro sì molto svezzaro sì molto svezzaro sì no caro devo andare al passo dell'ospluga che è di qua te lo assicuro che il passo dell'ospluga è di qua però va bene ciao 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 bella colorata la porca è qui dietro 43 tornanti eh sì va bene bello sì va bene neve freddo cacchio non ci corre dietro nessuno tranne uno con la porsche ma non ha fretta nemmeno lui e quindi andiamo su con calmetta uh che bello che bello tutte le volte tutte le volte che vengo in questi passi alpini resto sempre più col dire dalla loro bellezza, dai paesaggi, dalle montagne e dalle cazzate che racconto. Neve! Pennellato proprio, ci siamo quasi, dai, siamo quasi arrivati, sì, Maria che bello, Maria che bello, sì, che Maria che bello, vabbè, che vedevo di, 46, 48 tornanti, il che significa per i motociclisti estivi tanta roba, tanta roba di curve, magari un po' strittine, però ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, sì, neve, neve, bella neve, dai che ci siamo quasi, ci sta, 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 ci casa delle guardie e lì c'è il passo dello spluga che a me scappa ad andare a pisciare dopo due ore e mezza di moto ci potrebbe stare questa non mi ricordo se era una specie di alberghetto pensioncina no deve essere no non penso sia la casa delle guardie quella deve essere una specie di come si chiamano rifugini non rifugi cazzarola dove va mi andava mandavamo mandavano i bambini degli anni 70 80 a fare il campeggio non mi ricordo più il nome va bene quello che è sicuramente mi verrà in mente dopo e campi estivi che specie di campi estivi qua dove non c'è un cazzo di niente però vabbè campi estivi qua facevi delle belle camminate io andavo a varazze a fare i campi estivi con il cral con il cral della tv dove lavorava il mio babbo e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè e ci siamo eccolo qua passo dello spluga che divide l'italia dalla svizzera e ci siamo arrivati anche questa volta con dranguella va bene ci fermiamo un attimo andiamo a fare due fotine e poi andiamo a mangiarci un bocconcino anche se ne pensavo ce l'abbiamo fatta dai ancora e vabbè signori io vado a fare un paio di foto e e dopo si va a pensare dove andare a mangiare va bene buona giornata ciao ciao allora foto fatte tante preso freddo moltissimamente adesso ci ritorna verso la diga vicino a qual passo si mangia un boccone se ce la facciamo senza che moriamo di freddo e che comincia a piovere perché purtroppo mi sa ma non mancherà tantissimo all'acqua gomme si sono raffreddate a steca quindi andiamo tranquilli che tanto non ci corre dietro una ciaspola poi magari ritorniamo un po verso il basso e verso il caldo verso l'acqua va bene signori questo video è durato tantissimo questo video non finisce non finiva più però va bene ci stava in comincia a piovere va bene signori il video finisce qui io vi auguro tanta buona strada di vivere una vita felice tranquilla ma che cazzo sto dicendo va bene signori qui comincia a piovere noi ce ne torniamo verso casuccia e va bene così buona vi ricordo già che ci sono va tanto per finire di romper i coglioni vi ricordo che che gratuitamente potete iscrivervi al mio canale lasciare un bellissimo like se i miei video vi piacciono e attivare la campanellina io vi saluto dal primo dei 50 tornanti e ci vediamo lunedì a mezzogiorno per il prossimo video ciao ciao allora e come voleva si ben dimostrare non c'è un zio che fa il basso che prima o poi non finisce nell'acqua va bene vi lascio a questi ultimi questi ultimi momenti di questo bellissimo viaggio che è poi finito sotto l'acqua